40 destra 4 frena sinistra 2 chiude 30 destra 3 più lunga chiude per sinistra 4 più 50 destra 6 dosso dritto 40 sinistra 4 più in casa sinistra 2 più chiude 2 più chiude per destra 3 meno chiude 40 cartello sinistra 4 più 40 sinistra 4 meno chiude in sinistra 4 più per destra 5 meno 40 destra 2 chiude no bene molta attenzione dai 40 sinistra 2 chiude 30 destra 3 meno chiude sequenza ora in destra 3 più chiude in destra 3 più chiude ancora 30 sinistra 3 più chiude 30 moltissima attenzione sinistra 2 chiude 40 destra 3 più media 30 largo sinistra 3 chiude sconnessa occhio all'interno 40 dosso esterno lungo per destra 5 più 40 cartello destra 3 più chiude in destra 5 dosso esterno per destra 4 chiude taglia 60 sinistra 3 più chiude qui eh 3 più chiude 80 sinistra 3 più qua giù in fondo 40 largo destra 4 più 50 molta attenzione destra 3 chiude 40 sinistra 3 media chiude per destra 2 lunga chiude 3 media chiude 2 lunga chiude 20 tornante sinistro 2 40 tornante destro 2 casa sinistra 2 più chiude 40 dai sul bivio eh sinistra 4 chiude per destra 6 vai 80 sinistra 4 più in sinistra 5 più 40 sconnessi destra 2 chiude 80 tornante sinistro 2 più 80 ecco questo cazzo di tempo muro sinistra 4 40 molta attenzione destra 3 meno chiude 3 meno chiude 30 sinistra 3 più chiude 40 destra 3 media chiude no per sinistra 5 meno per destra 4 più sconnessa per sinistra 5 più dosso dritto 80 largo destra 4 meno media 40 sinistra 3 più media chiude 150 a vista salta moltissima attenzione moltissima attenzione casa destra 2 chiude 2 chiude meglio di 3 secondi 40 destra 3 più chiude 60 sinistra 3 meno chiude 3 meno chiude qui eh 40 40 largo destra 4 meno molto lunga chiude 80 alberi subito sinistra 3 più chiude per destra 4 più trena 30 sinistra 2 chiude 2 chiude rail destra 3 meno lunga chiude in destra 3 più chiude 30 sinistra 2 più chiude 2 più chiude 40 destra 4 meno in destra 4 più lunga chiude in destra 3 media chiude muro sinistra 2 più chiude 50 2 più chiude eh 50 sinistra 5 frena destra 2 chiude per sinistra 4 40 sinistra 4 più media sinistra 4 più frena 20 tornante a destra 2 chiude concentrazione eh 50 sinistra 3 più chiude in rail sinistra 2 più chiude 30 destra 2 più chiude rail sinistra 2 media chiude 2 media chiude 40 destra 3 più 40 sinistra 4 meno chiude 50 sinistra 5 più per destra 6 in destra 4 più chiude 40 dai sequenza destra 3 meno chiude per sinistra 3 più chiude per destra 3 più chiude per sinistra 3 più molto lunga 50 palo destra 2 chiude 2 chiude 50 sinistra 2 più chiude 2 più chiude per destra 4 cartello sinistra 4 chiude per destra 5 lunga chiude 50 bene l'appoggio ora qua dosso esterno molto lungo per sinistra 4 più chiude 40 largo destra 4 più sconnessa 40 alberi sinistra 4 più molto lunga 4 più molto lunga 50 destra 3 più chiude 3 più chiude per sinistra 3 più in sinistra 4 più molto lunga chiude arriva subito sinistra 3 più chiude 40 destra 3 meno media chiude dosso dritto 50 specchio molta attenzione sinistra 3 chiude dosso esterno col dosso per sinistra 4 più trena 30 sinistra 3 chiude 40 destra 2 lunga chiude 40 sinistra 2 media chiude 2 media chiude muro destra 2 media chiude salta bene col dosso sull'uscita 50 50